Francesco Fragomele, vicepresidente della provincia di Catanzaro, in questo momento come sta andando la vita nell'ente? Vabbè sì, grazie, buonasera. La vita dell'ente è sotto gli occhi di tutti, stiamo cercando di mantenere gli impegni presi con le varie comunità, con le varie amministrazioni per i lavori che diciamo dipendono più che altro direttamente alla provincia che sono la viabilità, i lavori pubblici e per quanto riguarda la dista scolastica, stiamo lavorando in sinergie con tutte le amministrazioni locali nonostante il bilancio provinciale non ci possa accompagnare tanto viste le problematiche economiche e finanziarie dell'ente, però diciamo che il massimo dell'impegno noi lo mettiamo, sia sulla città di Lamezza, sul comprensorio, proprio ieri siamo stati a Nocera Terinese che quindi è un comune qui vicino dell'Ametino dove stiamo provvedendo a ripristinare il ponte sul Savuto dopo anni che è stato fermo dopo il crollo del ponte stesso, quindi stiamo cerchendo almeno di mantenere gli impegni presi con le possibilità, ripeto, economiche e finanziarie dell'ente e soprattutto ci stiamo cingendo alle nuove aperture delle scuole anche lì con la dista scolastica, stiamo cercando in qualche modo di ripristinare tutti i servizi possibili per i ragazzi che frequentano le scuole della Mersi. Grazie 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 Grazie